Un'isola collegata alla terraferma da una strada che rende facilissimo l'accesso a un paradiso selvaggio. Una delle tante coste salvaguardate dal turismo di massa che regala una delle più belle spiagge del centro americano. Dove fare qualche avventura? Nuovi incontri? Raccogliere conchiglie? Mangiare del pesce freschissimo? O assaggiare una noce di conco? E passare una giornata felice a un'oretta di strada da Vignetta. Grazie per la visione! Grazie per la visione!